Buongiorno, oggi è venerdì, giornata iniziata non male, malissimo, perché è iniziata con un attacco di gastrite micidiale e si è conclusa con un impossibile prenotazione di una visita per mia suocera. Vabbè, lasciamo perdere, scusate la faccia e gli occhi, ma è rivenuta l'allergia, quindi abbiate pietà, anziché è venerdì, così almeno finisce la settimana e siamo tutti più felici e contenti perché domani è sabato. Vabbè, cioè sono stata un'ora e mezza piegata, piegata proprio, piegata in due così nel divano perché non riuscivo a farmi passare la gastrite. Io di solito quando ho la gastrite, che ce l'ho de minio, non è una novità, quando di solito ho la gastrite io mi metto giù così, mi spingo lo stomaco, respiro e mi passa. Stavolta non potevo spingere perché non ho proprio lo stomaco qui, ma ce l'ho sotto, dietro e ci arrivo. Quindi, guardate, lasciate perdere, sono stata un'ora e mezza straiata nel divano con un dolore, un dolore che non se ne andava. Non sapevo più che fare, ero disperata, cioè mi escivano le lacrime dal dolore. Poi, fortunatamente, piano piano mi sono rilassata, ho cominciato a respirare, ma è passato, però insomma non è stato un momento felice. Mi sono messa a sistema un po' casa e poi mi sono messa a fare questa prenotazione che ovviamente non ci sono riuscita, ma perché non si capisce bene come fa sul portale della regione Lazio. Non si capisce bene come si può prenotare una visita. Ieri siamo andati a fare la visita invece dall'ostetrica, tutto a posto, stiamo benissimo, il bimbo sta bene, il bimbo sta bene, io sto benissimo, non pensavo. Il mio corpo ha fatto dei cambiamenti enormi durante sta gravidanza, ho messo pochissimo peso e questa è già una cosa che, cioè io ho detto, madonna, poi non ci sono stata attenta per niente, lo ammetto. Ho mangiato di tutto, malissimo, cioè a tutte le ore del giorno e della notte, però il mio corpo ha messo su pochi chili, quindi sono contentissima di questo. In più, quando ho fatto la curva glicemica, io mi aspettavo, visto quello che avevo mangiato, quanto l'avevo mangiato, mi aspettavo, cioè il diabete gestazionale me l'aspettavo tutto. Invece niente, manco quello, quindi c'è rimasto un po' così, evidentemente il mio corpo durante sta gravidanza ha proprio sballato completamente. Tanto già so che il mio metabolismo non sarà veloce quando una volta che l'avrò partorito, però vabbè. Queste sono le, come si dice, sono le gioie della gravidanza, oltre al fatto di aver c'è il seno che poi ovviamente te casca perché c'è se svuota, è in disastro, eccetera. Anche il metabolismo che cambia dopo, gli puoi pure di ciao perché tanto non te li direi. E va bene, allora, detto ciò, devo solo andare a fare la lavatrice che è la cosa peggiore che mi può capitare perché poi dopo devo passare la roba da asciugare in asciugatrice perché il tempo fa prettamente schifo oggi, piove sicuramente e quindi non si asciugheranno mai. Comunque, domani che è sabato andiamo a Viterbo perché devo assolutamente fare delle spese per i bambini perché ho fatto il cambio di stagione loro e ho fatto anche il mio cambio di stagione e non vi dico quello che ho passato ieri mattina. I figli hanno cinque magliette per uno a maniche lunghe, hanno pantaloni Alessandro e a posto, Aurora e a posto, tute sono a posto, solo le magliette a maniche lunghe non hanno. Quindi devo assolutamente prenderli qualche maglietta. E poi devo comprargli anche a Aurora soprattutto un paio di stivaletti, stivali. Ora vediamo un attimo quello che troviamo perché almeno quando mette le gonne e i vestitini è più carina. Poi adesso il 9 abbiamo una comunione quindi deve assolutamente averci qualcosa del genere. Il suo numero è aumentato di piede quindi non ha scarpe e quindi dobbiamo comprarle. Alessandro invece ce l'ha. Alessandro a differenza della sorella invece gli serve assolutamente dei pantaloni, anche della tuta, perché li ho comprato a inizio settembre, sì a inizio settembre qui da me è stata la fiera, gli ho comprato una tuta che però gli ho messo l'altro giorno e ragazzi dopo due settimane gli sta stretta. Gli sta stretta, non gli sta bene, il sopra ancora ancora si può mettere, il sotto no. E tra parentesi ieri gli ho messo un paio di pantaloni più grandi che avevo messo da parte che metteva Aurora l'anno scorso che è 11-12 anni mi pare e gli stanno bene. Quindi io so, cioè, da lì ho capito che devo assolutamente alzare la taglia di mio figlio. Quindi mio figlio a 7 anni veste 10-11 anni. Non per l'altezza, non tanto per l'altezza quanto per la stazza perché c'ha un bel panzetto e quindi niente, mi tocca assolutamente comprargli dei pantaloni della tuta più grandi. Aurora invece no, Aurora c'ha tutto fortunatamente, poi io ero partita avvantaggiata l'anno scorso quindi ho preso delle cose che poteva mettere anche all'inizio di quest'anno, l'unica cosa appunto sono le scarpe. Poi tanto alla fine becca pure lei, che vi pensate, cioè uno va con l'intenzione di risparmiare e di comprare poco, poi alla fine compramo anche cose che non servono al momento in urgenza ma anche altre cose. E va bene, detto ciò io adesso vado a fare questa lavatrice benedetta e poi mi metto un attimo al computer e cerco di risolvere questa cosa, questa benedetta prenotazione. Allora, oggi pasta al pesto, il famoso pesto della barilla questo qui che è più posato, è più passato, penne, poi ho già messo a lavare l'uva e niente, di fuori c'è un tempo, lasciate perdere il mio vetro però guardate qua che tempo che si presenta, che si prospetta. E hanno detto che pioverà tutto il giorno, ho già dato una sgrullata, speriamo bene. In tempo in tempo, sta piovendo addirotto, addirotto. Loro sono arrivati in tempo in tempo e adesso pranziamo. È arrivato il passeggio, lo aspettavamo lunedì e invece è arrivato oggi. Adesso montiamo un po' tutto, vediamo un po', tiriamo un po' fuori tutto. Svetrana mi diceva dei Kinder Craft. Eh sì, ho capito. E noi invece abbiamo preso Fappapedretti e Up3. Aspetta, se no non riesco a farlo giù un po'. Ah, qui c'è credo la parte principale. È la parte principale. Eccolo qua. Fappapedretti, Up3. L'abbiamo preso su Amazon ovviamente. E adesso lo montiamo. Proviamo a montarlo perlomeno e vediamo se c'è tutto. Mi sarà un pallato il telefono, quindi non ho potuto far vedere niente. Vabbè, questo è il telaio montato. Questo è l'ovetto. Dai, facciamogli vedere almeno l'ovetto. Dai, è quello più importante per adesso. Allora, ecco. Adesso ci riesco, perché avevo il telefono completamente impallato. Allora, questo è l'ovetto montato con tutto il telaio. Eccolo qua. Finalmente riesco a farvelo vedere. Poi c'è il passeggino. E poi c'è la culla. La culla, insomma, la carrozzina. E poi c'è la borsa. Ma io già mi sono organizzata e mi sono presa un'altra borsa. A zaino, più capiente. E niente, questo è il nuovo arrivato. Adesso dobbiamo capire dove metterlo. Stava tutto dentro questo scatolone gigantesco. E ci entrano pure i bambini, tra un po'. E questo è. Se c'è qualcuno che ce l'ha avuto, il 3-up, si chiama, boom, mi ricordo più. Vabbè, se c'è qualcuno... Up 3. Up 3, ecco, Up 3. Se c'è qualcuno che ci ha avuto l'Up 3, della Fappa Pedretti, mi fa sapere come si è trovata. A me, fino adesso, pare che... Come il manovra biglietto è spettacolare. Fabi, dai babbo, riprendi un po' la mano. Vabbè, sei soddisfatto anche perché l'hai scelto tu. Sì, sono soddisfatto. Ok. Allora, stasera, col mio amato Gennaro, cioè il bimbi, voglio provare a fare pasta, patate e provola. Allora, sarà tipo tre settimane che voglio fare questa ricetta. Allora, vediamo se riesco, perché praticamente mi dice che ci vuole un'ora quasi, quindi va bene. Gli ingredienti ce l'ho praticamente quasi tutti, tranne la provola, devo trovare una soluzione. Però, ecco, adesso comincio a fare la ricetta e vediamo come esce. Allora, questo è il risultato. Com'è da 1 a 10? Mentre la mettevamo nei piatti, che hai detto? 23. Da 1 a 10, 20, 25, 26. No, che hai detto quando la mettevamo nei piatti? Che botta di salute, che ho detto qualcosa di genere. L'ingrasso solo a guardare. L'ingrasso solo a guardare. Chi è? Effettivamente. Ora, mangiamo e buon appetito. E io ci bevo pure, eh. E lui ci bevo pure. Permettino. Permettino. Com'è Ale? Buona. Buona, ti piace? Ancora non l'ho provato, ma perché è caldo? Eh, vabbè, aspetta. Soffia. Ok, di fuori c'è il temporale. Infatti è lampeggiato prima. E infatti si fanno queste coside qui. Ciao. Ciao.